Lo spaccio di sostanze stupefacenti resta purtroppo un'attività diffusa nel Salernitano, nonostante l'intenso lavoro investigativo di prevenzione e repressione portato avanti dalle forze dell'ordine. Interventi che negli ultimi anni hanno fruttato centinaia di arresti e piogge di denunce. Ma nonostante ciò, soprattutto i giovani continuano a farne uso, o peggio ancora, a smerciarlo. Mercoledì sera l'ennesimo arresto. A finire ai domiciliari è stato un 31enne censurato di Sala Consilina. E' stato sorpreso dai carabinieri a cedere una dose ad un ragazzo all'interno del negozio gestito dall'arrestato nella cittadina salese. Durante la perquisizione all'interno dell'attività commerciale, i militari hanno rinvenuto anche una bottiglia contenente metadone, mentre addosso ad un suo parente è stato trovato un grammo di marijuana. Quest'ultimo è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Successivamente la perquisizione si è trasferita presso l'abitazione del giovane commerciante sorpreso a spacciare droga. I carabinieri sono riusciti a rinvenire un grammo di hashish, già imbustato e pronto per essere venduto. Per il 31enne sono scattati gli arresti domiciliari. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lago Negro. Grazie. Grazie.